Il nostro compito è quello che voi vendiate i vostri prodotti, per cui se a questo si accompagna una possibilità reale di engagement diretto, questo può essere fatto soltanto se voi entrate nell'ecosistema, se l'ecosistema che noi mettiamo a disposizione funziona, quindi se entrambi facciamo bene il nostro lavoro, questo può essere fatto. 100 centri storici in tutta la Puglia, 280 beni culturali in tutta la Puglia, quasi 130 comuni, forse 126 per l'esattezza, saranno aperti tutti sabato e sera, dal primo sabato di luglio all'ultimo sabato di settembre, dalle 20 alle 23. Aperture straordinarie e visite guidate. A questi numeri ti riferivi? Quante persone ha movimentato l'anno scorso? L'anno scorso abbiamo avuto 200.000 persone che hanno partecipato agli Open Days in tutta la Puglia. Per definizione il social network è quella rete sociale di persone che vivono sui canali, sulle applicazioni, piattaforme social e che parlano del viaggio. Il viaggio si può organizzare, si può sognare, vivere, condividere e in queste fasi noi interveniamo influenzando i viaggiatori e potete farlo insieme a noi, sfruttando le domande che ci vengono fatte e rispondendo anche voi a quelle che sono le richieste sulla Puglia. Fotografiamo la Puglia, la condividiamo con tutti i follower che seguono il nostro account, che aumentano di volta in volta e lo leghiamo soprattutto alle nostre campagne di comunicazione, quelle di We Are in Puglia ad esempio, che in due anni ha raggiunto circa 75.000 foto caricate dagli utenti. In generale vi invito, proprio per fare le cose insieme e per essere sempre in rete, ad essere collegati con il nostro sito agenzia.pugliapromozione.it, che non è il sito turistico, è il nostro back office di lavoro. Allora lì abbiamo aperto una community, per noi un po' come la chiacchierata che ci stiamo facendo oggi pomeriggio, abbiamo la necessità che questa chiacchierata allargata a tutta la regione, a tutti gli operatori, diventi stabile, abbia un metodo e ci porti a prendere insieme delle decisioni. Perché ci sono delle decisioni che riguardano noi tutti, che non possono essere prese dall'alto, neanche dal basso, non è da uno, ma da tanti e hanno la necessità di essere discusse. Allora questa community, che è sul nostro sito, si chiama appunto il turismo che vorrei. Si discute per, intanto con uno sguardo al futuro e non al passato, per mettere in condivisione delle idee, raccogliere commenti su quelle idee, su quelle proposte, e poi alla fine discuterne face to face, attraverso dei focus che faremo su ogni territorio, dopo la stagione estiva ovviamente, quando avremo un po' più di tempo a disposizione, e ci porterà insieme a scrivere il piano di marketing della destinazione. Esiste TripAdvisor, esistono i social netto, esistono tante cose, ma esistono anche i portali di destinazione, che sono luoghi da cui nel processo di acquisto prima o poi ci si passa, e prima o poi ci si passa per organizzare la propria vacanza. Ovviamente l'output della community è l'orientamento del lavoro di marketing che spetta a Puglia Promozione, quindi non discutiamo di aeroporti, non discutiamo di pulizia delle strade o di costruzione di nuove strade, ma discutiamo di come vendere la Puglia, di dove posizionarla, e delle cose che possiamo fare insieme per essere più competitivi. Grazie a tutti.